Nonostante l'impennata dei contagi a Sassari da Covid-19, la scuola prosegue in sicurezza. Nessuna chiusura prevista per gli istituti, che continuano con le lezioni in presenza nel pieno rispetto delle norme. A scongiurare un nuovo lockdown, anche l'impegno dell'Arst, che si è attivato ulteriormente, contattando le scuole superiori per conoscere gli orari di ingresso e uscita degli studenti e attuare in caso nuove corse. I pochi casi verificati finora tra studenti e docenti sono stati tenuti sotto controllo, grazie al rispetto dei protocolli sanitari, evitando così focolai anche con l'aiuto della didattica a distanza. Sì, ci sono dei casi di positività tra gli studenti. Devo dire che in un mese di scuola, un po' la portata di questo contagio non è poi così ampia. I mesi del lockdown di marzo ci hanno consentito di sperimentare una modalità di didattica a distanza che ormai i docenti hanno appreso, come stiamo già facendo, con alcune classi che sono a casa in attesa di tampone. Attivare la didattica a distanza è una cosa, diciamo, complessa, perché nel momento in cui le classi vengono messe in quarantena, sono in quarantena anche i docenti. Siamo vincolati sostanzialmente alla chiusura della scuola. I genitori sono soddisfatti dell'organizzazione delle scuole e sperano fiduciosi nel proseguo in sicurezza ed in presenza dell'attività didattica. Noi genitori siamo tranquilli, perché i bambini saranno tranquilli. Per la questione anche della situazione che si vede per loro sarà molto difficile se in caso accadde un secondo lockdown. Siamo convinti che fosse importante che la scuola riaprisse, soprattutto per i bambini più piccoli che hanno l'esigenza di stare con gli altri. Molti dei nostri figli sono anche figli unici e che bambini ormai ne vedono pochi. C'è massima pulizia. Io sono molto soddisfatto effettivamente di quanto sta facendo la scuola. Viene fatto in modo assolutamente corretto, quindi siamo soddisfatti. I suoi figli invece? Vengono di corsa a scuola, quindi indice che vanno in un ambiente sano dove si trovano bene. Si spera che si possa continuare così, visto l'ondata di contagi che c'è stata ultimamente. Si spera che non ci sia una chiusura più che altro per i bambini.